Stai ascoltando un podcast per Izzogli Education. Storie d'avanguardia. L'arte del Novecento narrata in pillole da Valerio Terraroli. Quali sono i presupposti filosofici dietro al cubismo? Qui il discorso si complica, adesso anche ci porterebbe via molto tempo, andare, come direi, a evidenziare i gangli e i fili di collegamento tra il percorso della filosofia moderna, ma anche della letteratura e anche della musica moderna con queste novità. Però la domanda è molto corretta, perché in realtà si tende a parlare di singoli sistemi di rappresentazione, l'arte, la musica, il cinema, la fotografia, la danza, il teatro, non pensando mai che invece tutti questi elementi, queste esperienze convivono, convivono felicemente, convivono in modo brillante. Il problema che cos'è? Che in realtà nel cubismo non c'è, almeno inizialmente, alcun supporto filosofico. Picasso non è uno studioso di filosofia, non è neanche affascinato dalla filosofia, anche Braque sostanzialmente. Il loro percorso che cos'è? È un percorso inizialmente sperimentale, cioè nel senso che i due artisti partono non sapendo dove andranno a finire. E la partenza è una partenza che è giustificata dal fatto che il giovane Picasso, che era un artista, un giovane spagnolo di altissimo talento, ma bisogna tenere conto che aveva frequentato l'Accademia di San Fernando a Madrid. All'inizio del Novecento, cioè tra il 1899 e il 1900, viveva a Barcellona, che in quegli anni è una delle città europee più moderne, dove la modernità proprio si sentiva per le strade, la città si era raddoppiata, c'erano le architetture di Gaudì, per capire. E poi soprattutto gli intellettuali che vivevano a Barcellona avevano un canale diretto con Parigi, andavano e venivano da Parigi, vuoi per il Salon, vuoi per l'esposizione. Tenete conto che il 1900, cioè il primo anno del secolo, si apre con un'esposizione universale che fu visitata da milioni di persone e da tutti gli artisti di quel momento lì. E quindi questo continua ad andare a venire, l'idea di un tessuto connettivo che è fatto appunto di musica, di cabaret, di circo, di dibattiti anche filosofici, ma solo orecchiati, non letti, non studiati, arrivano dentro Picasso e dentro Braque. E in più c'è una ragione, anche stretta, legata alla biografia di Picasso, che la sua pittura, che all'inizio del 1900, c'è tra il 1899 e il 1900, una pittura vicino a Toulouse-Lautrec, per capirci, quindi figurativa e in qualche modo narrativa, subisce dei cambiamenti repentini nel giro di pochissimo. Il cosiddetto periodo blu e il cosiddetto periodo rosa, che cosa sono? Sono dei passaggi da una pittura narrativa alla forma cubista. Il periodo blu è costituito da figure dipinte solo di blu e di azzurro, quindi la tonalità è astratta fondamentalmente all'interno di figure ancora riconoscibili. Il periodo rosa recupera un certo monumentalismo, ma schematico. Cosa succede mentre lui fa tra il 1904 e il 1907 periodo blu e periodo rosa? Incontra Cezanne. Cezanne è un vecchio maestro, che aveva cominciato la sua carriera con gli impressionisti, ma poi li aveva abbandonati perché la sua strada era molto individuale e diversa. Muore appunto a ridosso del 1905, all'inizio del 1906 e lui, Cezanne, era arrivato nell'ultima fase della sua vita a costruire paesaggi, il Monte di Sianvictoire per esempio, o le bagnanti, figure nude di donne nella natura, schematizzate. Ma lui stesso l'aveva detto, aveva scritto, che inevitabilmente la strada, lui sapeva di aver aperto una strada nuova, quella che noi chiamiamo del cubismo, ma sapeva che non sarebbe mai riuscito ad arrivare in fondo a quella strada. Qualcun altro avrebbe preso il testimone e quello è Picasso. Ma non c'è una scelta filosofica di partenza, è un tentativo sperimentale di espressione, di indagine. Casomai è negli anni, ridosso degli anni 10 e degli anni a ridosso della fine della prima guerra mondiale, inizio del secondo, che quando viene teorizzato il cubismo da Metzinger e da Gleiser, che scrivono proprio la teoria del cubismo, allora gli entra in campo un ragionamento di carattere filosofico. Se vogliamo fare un rapporto con la filosofia, per esempio Mondrian, il gruppo destello olandese, è legato alla filosofia teosofica. Però questo aprirebbe un ragionamento complicato, ma sempre le due cose vanno insieme. Seguici su Rizzoli Education per ascoltare le prossime puntate di Storie d'Avanguardia, l'arte del Novecento narrata in pillole da Valerio Terraroli. Hai ascoltato un podcast per Rizzoli Education.